Fin qui la pagina dedicata alla vicenda della Russia, adesso parliamo di migranti perché una barca di 10 metri con a bordo 65 persone, tra cui una donna e tre minori, è stata soccorsa da una moto vedetta della Guardia Costiera, il gruppo composto da pakistani, siriani, egiziani e somali hanno riferito di essere salpati dalla Libia alle 8 di venerdì e di aver pagato tra i 2.000 e i 4.000 dollari a testa per la traversata. Dopo un primo esame sanitario al molo dell'isola di Lampedusa sono stati portati nell'hot spot.